la mia ragazza Sara Labidi è una doppiatrice anche lei ha la voce di Aria Stark davvero? siamo tutti collegati non voglio immaginare i momenti di intimità con le voci fammi la voce di Aria Aria Stark passa dal basement, passa dal basement, passa dal basement passa dal basement bella raga bentornati, nuovo appuntamento di Passa dal basement io sono sempre Gianluca Cazzoli, se non l'avete ancora fatto e vi va iscrivetevi al canale così non ve ne perdete neanche uno di questi Passa dal basement che sono molto contento, vi stanno piacendo e soprattutto insomma mi stanno regalando anche delle belle soddisfazioni più che altro a livello umano insomma conoscere tante persone, tanti ospiti che passano di qui sinceramente insomma sono veramente passati tanti amici anche importanti ma non credevo che sarebbe mai accaduto questo momento infatti sono anche un po' emozionato perché insomma anche in questo posto ci sono tanti oggetti tante cose che parlano di lui il mio migliore amico diciamo da quando sono piccolo ma non lo sapeva, guardate me lo sono anche tatuato perché ebbene sì qui con noi oggi dal basement è passato Spider-Man ciao Gianluca, ciao ragazzi sono il vostro amichevolo Spider-Man di quartiere, li conoscete? devo dire che così fa impressione allora Spider-Man come sei arrivato qui? ovviamente dai grattacieli con le raggatele certo anzi scusa il ritardo ma ero in missione con gli Avengers ma d'altronde chi sono io per fermarti stato un po' impegnativo ragazzi Alex Polidori scusami Alex dovevo farti fare sta cialtronata io chiedo subito scusa ad Alex le cuffie sono rimaste a Spidey ma d'altronde l'unica cosa che non ha credo è un super udito poi per tutto il resto è super che bello Spider-Man allora Alex Polidori grazie davvero ciao a tutti ciao e Alex che è passato dal basement questa volta ovviamente non potevo trattenermi raga scusami la gag no 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 anche perché ormai sai che mi fa piacere quante persone ormai ti conoscono ovviamente per Spider-Man e per tante altre cose e quindi ti chiedono qualcosa relativo a Spider-Man sei associatissimo sempre di più sempre di più grazie ovviamente ai social è successo che insomma il successo di Spider-Man ha contagiato un po' anche me quindi cominciano a riconoscermi un pochino ovviamente io metto tanti contenuti inerenti al doppiaggio e a Spider-Man quindi insomma porto anche un po' nel dietro le quinte del doppiaggio le persone che mi seguono magari ridoppiando delle scene facendo vedere come si lavora in sala e questo piace molto e quindi piano piano capita che ultimamente mi riconoscano ogni tanto in giro cosa che per un doppiatore è strano ma infatti perché nessuno sa chi sei no magari sì possono sentire una voce familiare però io nella quotidianità non parlo molto come parlo al doppiato questa è un'altra cosa no particolare anzi adesso anzi mi sto un po' tenendo ma ho una cadenza abbastanza romana non troppo sì 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 troppo marcata però non mi piace parlare troppo in dizione preciso così quindi però incredibile come riesci a switchare cioè sì sì beh è una capacità che si acquisisce col tempo e io sono stato fortunato perché iniziando da bambino sì è stato perché da più grande non è facile imparare la dizione pulita e togliersi alcuni vizi della cadenza anche se a Roma ci sono alcuni vizi ma non tantissimi come magari in altre regioni alcune cadenze che sono sbagliate in dizione perfetta però imparando da piccolo è come imparare una seconda lingua no sì sì come quando hai un genitore magari inglese uno italiano e scusate e tu hai una seconda lingua pronta la seconda lingua quindi praticamente imparando a 5-6 anni sentendo sempre nelle orecchie mio fratello io ho seguito le orme di mio fratello che è un doppiatore anche lui bravissimo Gabriele Patriarca e la voce di Neville Pachock di Harry Potter ok e fin da piccolo respiravo quest'aria di sala di doppiaggio e questa parlata magari un po' più pulita poi mi hanno corretto al momento e quando sei piccolo assorbi come una spugna quindi riesci a switchare infatti poi questa cosa di Spider-Man è un po' per te come per i cantanti molto popolari che magari hanno fatto una hit molto popolare ogni volta che vedi il tizio caio gli chiedi mi fai un pezzo di quella ma allora a te ovviamente in questo momento poi ti associano ti associano a Spider-Man pure avendo fatto altre mille cose ma è normale tu sei allora la voce ufficiale di Spider-Man ma in realtà tu sei la voce ufficiale di Tom Holland dell'attore sì allora questo è un discorso un po' particolare nel senso spiego perché è una domanda che mi fanno spesso nel senso quindi ogni film che fa Tom Holland sicuramente lo fai tu non è scontato non c'è una regola non esiste un contratto cioè non firmi un contratto di esclusivo con Tom Holland è tutto a progetto e quindi possono anche decidere ovviamente più lo fai e più le produzioni saranno portate a dire vabbè su Tom Holland vogliamo Alex Polidori anche proprio dall'estero sì 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 che sanno che quella è la voce però soprattutto agli inizi e comunque anche dopo averlo doppiato per tanti anni non è scontato che chiamino te dipende magari se vogliono una voce diversa perché il personaggio è un po' diverso magari sai un attore molto camaleontico può avere voci differenti sì 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 secondo i personaggi che vanno a fare oppure anche per gusto del direttore di doppiaggio semplicemente quindi non è scontato devo dire ultimamente lo sto doppiando sempre io e tranne qualche film appunto di qualche anno fa quando ancora l'avevo doppiato poche volte adesso insomma lo doppio quasi sempre è lui è lui è lui lui e anche Timoteo Chalamet che è un altro attore fichissimo che sta andando sono fortunatissimo perché faccio i due attori i due attori 25 anni quindi più o meno della mia età che è più in voga certo certo anzi Timoteo è anche stato candidato all'Oscar per Chiamami Coltuo Nome quindi un attorone ormai no no questa è una grandissima figata ma quel discorso poi della voce del nome associato del doppiatore a volte ormai è richiesta anche dai fan cioè io ricordo esempio per l'ultimo Spider-Man di cui tutti sappiamo tutto ormai c'era stato veramente un ritorno a gran voce della voce appunto di Pannofino nei panni di Goblin quindi di William Dafoe nel primo trailer non c'era all'inizio hanno messo un altro doppiatore bravissimo anche lui però sì era stato fatto non so bene perché questa scelta poi i fan hanno richiesto proprio a gran voce Pannofino come hai detto tu e hanno avuto un potere enorme perché poi l'ha fatto Pannofino l'hanno fatto l'hanno fatto i fan hanno un potere enorme al giorno d'oggi e quindi appunto quindi ricordiamo che da grandi poteri derivano grandi responsabilità quindi amici fan occhio come usate il vostro potere non a cazzo di cane insomma al primo film di Tom Holland e sentite il trailer che non ci so io ecco lì andate il shitstorm shitstorm a manetta no a parte gli scherzi però fa parte del nostro mestiere anche ogni tanto non fare quel determinato attore che magari hai fatto tante volte può succedere tantissimi attori grossi hanno più di una voce ricorrente no? magari l'hanno doppiato dieci volte uno cinque volte un altro si capita però allora quelli più famosi Leonardo DiCaprio no è sempre stato Pezzulli che salutiamo grande fra abbiamo fatto una DJ tank con fra abbiamo corso fianco a fianco fino alla fine quindi ce l'abbiamo fatta incredibile davvero vabbè poi è grande sportivo si e poi però ci sono anche altri attori che sono stati doppiati da vari doppiatori certo e Tom Hanks per dire spesso Angelo Maggi ma anche Roberto Chevalier due bravissimi due maestri di questo mestiere Roberto Chevalier e anche Tom Cruise si esattamente bravo quindi insomma può succedere può succedere beh io spero di continuare no dai insomma però ripeto è sempre più caratterizzante e ormai sempre di più sappiamo dei doppiatori hai detto bene ogni tanto mi fermano una cosa che non succedeva mai questo è veramente tiktok senti che ti sto dicendo tiktok beh allora fammi permettimi di dire dato che lo avevo fatto anche io la mia versione la tua versione di chapeau di Spiderman per me resta epica quella è stata una genialata cioè devo essere umile e dire che la tua vince tutto veramente bella grazie però il mio collaboratore Matthew che salutiamo ha delle idee abbastanza geniali molte volte partono da lui quindi ringrazio no perché la fidate è quella tirare fuori la voce del personaggio in un contesto che ovviamente di solito non vedrebbe non vedrebbe lui protagonista mi diverto mi diverto no quello hai detto bene i social ti raccontano il dietro le quinte del doppiaggio esatto quindi il doppiatore diventa protagonista quindi inizia ad avere anche un peso specifico importante i doppiatori di una volta che sono tanti storici come vedono te come vedono i doppiatori di oggi in generale nel nostro ambiente piano piano sta entrando questa cosa del social ma e tanti colleghi si stanno cominciando ad avvicinare piano piano soprattutto i giovani ovviamente perché Instagram è pazzesco per quella roba lì i social i video dei doppiatori affascinano un casino io li guardo io sarò che sono insomma mi piacciono e quindi spesso andavo già anche prima a vedermi ma chi è la voce di ma chi è vedere il dietro di quinte di voi che doppiate è bellissimo sì beh devo dire che anche io rivedendo magari ecco alcune scene magari appunto proprio di Angelo Maggi che è uno di voi Angelo Maggi lo usa benissimo è spettacolare perché comunque fa dei video si veste come il personaggio mette sotto la scena ormai il format è quello il pezzo del film ormai lo facciamo in tanti tu hai rifatto con lui una scena con Iron Man e Spider-Man sì sì poi cerchiamo di collaborare quando si può però diciamo che nell'ambiente doppiaggio soprattutto i più attempati diciamo così non sempre vedono proprio di buon occhio questa pratica perché sono stati abituati ad essere proprio un po' nell'ombra loro e da una parte sono anche d'accordo che magari il doppiatore ci starebbe che rimanesse un po' nell'ombra perché comunque la magia è proprio pensare che quell'attore parla con la voce in italiano e non sai chi c'è dietro quindi da una parte capisco il ragionamento però nel 2022 è impossibile nel senso è anche bello far vedere cose dietro e quello che cerco di fare io io appunto sono tra i pochi che usano tanto i social tra i doppiatoni ce ne sono è anche uno dei più giovani di conseguenza ce ne sono però non siamo tantissimi che lo usiamo tanto quindi scusate c'è un abbassamento di voce ecco il doppiatore tanto a che mi serve la voce non serve a niente piccolo problema esatto poi canto pure la voce per me è tipo allora questa cosa poi te la chiedo perché io appunto anche io con la voce lavorandoci anche ho un rapporto strano vorrei imparare a usarla meglio ma questo te lo chiedo te lo chiedo dopo io mentre parlo normalmente la uso malissimo proprio mi lascio proprio andare quando sto al doppiaggio mi imposto diaframma respirazione e postura però quando parlo normalmente mollo talmente tanto che a volte mi affatico certo ci credo e comunque che stavo dicendo no diciamo che appunto capita che essendo tra i pochi che usano questo questo mezzo appunto non sia tanto ben visto da alcune persone però sempre più piano piano si avvicinano in tanti ed è bello perché io nel mio piccolo poi cerco di dare cerco di dare lustro anche agli altri colleghi che mi fa piacere che la gente sappia perché poi il pubblico non conosce tutti i doppiatori magari chi si documenta sì però molti pensano che quelli più seguiti siano i più bravi e non è così nel senso io per carità non è che mi reputo proprio una pippa però chiaramente ce ne sono alcuni a volte mi taggano nelle storie i miei doppiatori preferiti sono ne so Alex Politori non so tutti bravissimi Maurizio Merluzzo Alessandro Campagliola tutti fenomeni bravissimi però non sanno che ci sono dei maestri come non so Sandro Acerbo Riccardo Rossi c'è doppiatori grandissimi o ancora altri doppiatori che con un'età ancora più avanzata che sono dei maestri questa è una grande verità che dici e quindi mi piacerebbe ogni tanto quando posso cerco di pubblicizzare anche un po' i miei colleghi se posso no e fai benissimo che poi anche per questo insomma ovviamente tu hai rispetto dei più grandi io poi tutto quello che dici un po' lo rivedo anche nel mondo della radio soprattutto quello che dicevi prima del insomma per anni la radio andava insomma la magia è sempre stata quella di sentire solo una voce quindi per anni le persone andavano avanti immaginandosi come boh chissà come è fatto questo qui che parla è un mio amico perché senti la voce che entra nella tua vita ma tu fantastichi e invece adesso puoi sapere chi è com'è anzi di tutto e di più e ci sono alcuni anche del mondo della radio non tanto nella radio in cui in cui sono io ma magari storici di tempo fa che dicono no però i social hanno rovinato la magia della radio eccetera invece io sono anche dell'idea come dici tu che è figo perché ti dà la possibilità di vedere anche come funziona il dietro le quinte e ti rapisce ancora di più sì 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 fa anche appassionare le persone al lavoro che fanno e poi comunque più banalmente non è un fatto di ego però perché io faccio una cosa così bella non la devo non la posso raccontare raccontare mostrare anche per raccontare appunto anche una bella storia nel senso il fatto di poter che ci sia la possibilità di fare questo mestiere infatti poi sempre più ragazzi ti stanno avvicinando a questo mondo mi chiedono percorsi cose no è complicato sono mestieri complicati poi arrivare a certi livelli è complicato penso anche nel tuo mestiere arrivare magari a delle radio più importanti non è così facile sì sì chiaro non lo è mai i posti quelli però ispiri delle persone in qualche modo tu che lo fai fai venire voglia innanzitutto dici esiste questa possibilità esiste questa strada anzi a tal proposito guardando al futuro una delle critiche tra virgolette che viene spesso fatta al mondo del doppiaggio è quella dell'avere in qualche modo impedito a tante persone magari di imparare meglio l'inglese che lascia un po' il tempo che trova devo dire perché è vero ci sono altri paesi che magari non hanno il doppiaggio ora non mi sembra che poi siano diventati tutti madrelingua in realtà questa cosa si è invertita non è più vero che in certi paesi non si usa il doppiaggio anzi con l'avvento delle piattaforme doppiano paesi che non avevano mai doppiato cioè stiamo doppiando paradossalmente di più di quello che si faceva prima perché certi paesi dell'est Europa prima non doppiavano adesso con Netflix e tutte le altre piattaforme doppiano per forza perché tutti vogliono il cambio lingua vogliono ognuno vuole vedere la cosa nella sua lingua io penso che nel 2022 avendo la scelta fare questa polemica è un po' stupido perché tu se vuoi imparare l'inglese ti vedi tutte le serie che vuoi film in lingua originale hai la scelta di farlo però neanche si può imporre di fare questa cosa perché ci sono persone che si vogliono godere un film o una serie in italiano sentire delle emozioni che arrivano nella tua lingua è diverso da sentirle in un'altra lingua cioè io se sento un attore c'è un personaggio che fa ti amo mi arriva di più di uno che dice I love you magari cioè per carità l'emozione arriva però io ho fatto questa prova a parte vabbè io vedo sempre i film originale mentre li doppio però non mi li godo mai una volta sono andato a vedere Dune non so come pronunciarlo in Italia in realtà ai tempi lo chiamavano Dune quando è uscito il primo romanzo l'ho visto sia in originale che in italiano e ovviamente l'originale è bellissimo l'opera originale è sempre la migliore quindi se uno ha la possibilità di capire benissimo la lingua di non farsi distrarre dai sottotitoli e cose del genere è giusto che lo guardi in originale lo farei anch'io però alcune cose sentirle dire nella tua lingua secondo me ti crea un'emozione diversa empatizzi forse anche di più esatto un'emozione diversa volevo dire e soprattutto tante volte magari appunto il messaggio arriva anche più più forte è anche vero poi pensare a casa linga a persone magari di un'età più avanzata che non vogliono stare lì a leggere i sottotitoli non conoscono la lingua poi non è solo l'inglese certo guardati Squid Game in originale sì tutti quei sottotitoli sì forse se devi allora se devi io qua poi dipende da tante cose nel senso che poi fortunatamente il doppiaggio italiano è molto molto bello cioè siamo adesso non vorrei dire una banalità ma credo che siamo tra i più bravi nel mondo siete tra i più bravi c'è una cura diversa rispetto agli altri perché è una cosa che si fa dagli anni 30 da tanto tempo e sta bene a me sembra che stia bene tante altre lingue io lo spagnolo ricordo una volta di aver visto Lost in spagnolo stavo sanguinando dalle orecchie e dagli occhi però se tu sai come dici tu bene l'inglese quindi non non ti metti a seguire e leggere i sottotitoli allora ha senso guarda la lingua originale è anche più giustizia per l'attore chiaramente quello che esce esce in un modo diverso l'opera originale non sarà mai diciamo superabile è sempre un compromesso il doppiaggio come lo è il sottotitolo perché sporca l'immagine il doppiaggio cambia l'audio è comunque una forzatura questo c'è da dirlo però poi ci sono tante categorie di persone che sicuramente preferiscono avere la comodità di vederlo nella propria lingua certo questo fa una cosa a cui non pensa mai nessuno per questo dico la scelta è giusta i non vedenti che non possono leggere i sottotitoli e magari non conoscono la lingua cosa fanno quando vedono non possono vedere per dire o tante altre persone diciamo che in assoluto non si dice mai in generale nel senso che non è che uno non deve avere la possibilità di avere il film doppiato anzi la scelta è proprio la cosa più bella adesso fortunatamente possiamo scegliere dicevamo anche tra tante voci molto caratterizzanti perché io ricordo veramente anche di personaggi come quando cambiò purtroppo per forza di cosa anche la voce di Homer Simpson o di personaggi iconici con cui molti sono cresciuti il cambio della voce è qualcosa comunque che la senti che l'avverti e che al pubblico fa quindi insomma in qualche modo siete anche diventati molto molto più importanti rispetto secondo me a tanto tempo fa c'è da dire perché a onor del vero questo lavoro adesso i prodotti sono tanti da doppiare quindi c'è molto lavoro che è buono per noi però allo stesso tempo questo tanto lavoro fa sì che ci sia una frenesia molto chiaro importante e si faccia tutto un po' più di corsa e questo andare di corsa purtroppo a volte si sente nella qualità del doppiaggio in certi prodotti è vero che dei doppiaggi sono fatti un po' un po' non voglio dire male però sono meno curati rispetto magari a dei film che vanno al cinema che sono ancora abbastanza curati questo è figlio dei tempi nel senso che succede su tante cose questa cosa e purtroppo è per questo che poi molti criticano a volte il doppiaggio perché dicono quel doppiaggio di quella serie fa schifo non hanno torto io non mi sento di dare torto perché a volte io so come si lavora in certe situazioni dove in tre giorni devi consegnare cinque episodi con tot doppiatori e farlo è un'impresa anzi per i tempi stretti che abbiamo già il risultato che arriva è oro vuol dire che siamo proprio lo dico la categoria di tutta la macchina del doppiaggio fenomenali perché veramente ci danno dei tempi molto stretti no esatto poi è chiaramente un lavoro si è dimensato il tempo ricordo quando appunto Pezzulli che abbiamo citato prima Francesco che è la voce di Leonardo Di Caprio mi fece fare un giro negli studi a vedere delle cose quindi vedere anche un po' i turni come funziona il fatto che a volte addirittura qualcuno si dimentichi il film che ha doppiato e quando va al cinema se lo scopre mi ha raccontato anche che ad alcune persone capita anche questo perché ne fate tante infatti perché dici si fai quel pezzo però poi magari non te lo ricordi a me il doppiaggio è sempre affascinato fortunatamente quest'estate ho avuto questa grande possibilità per me è stato veramente un sogno che si è realizzato insomma aver fatto una piccola esperienza come guest quindi non come doppiatore quindi non c'era la pretesa di andare a la cosa che hai fatto tu è quello che andrebbe fatto quando si utilizzano i talent così vengono chiamati in gergo perché tu hai fatto qualcosa che in qualche modo ti competeva anche come ruolo nel senso che aveva un senso farlo fare a me perché comunque tra le mie passioni oltre alle varie cose che faccio c'era il basket poi Space Jam è un film che per me la mia generazione non solo è stato veramente un film che ha cambiato in qualche modo la vita ti ha fatto avvicinare a tante cose è un film iconico quindi per me che insomma mi sarebbe sempre piaciuto fare questa esperienza essere chiamato a fare questa esperienza è stato qualcosa di incredibile e farla poi appunto non diciamo senza andare tra virgolette a togliere la professionalità a nessuno perché la fai come guest come ospite quindi ovviamente serve anche un po' telepronista quindi anche c'era il mood giusto c'era una facevo il cazzone tra l'altro dicevo delle cose che avrei detto anche nella vita tra cui ti amo Lebron e altre cose del genere perché stiamo parlando di Space Jam New Legacy appunto che è uscito questa estate quindi l'esperienza per me è stata super perché ho potuto vedere da dentro e devo dire che questa cosa che hai sottolineato adesso mi fa piacere perché è stata vista da molti perché in tanti casi invece a volte viene criticato veramente non si sa io non ho ancora capito dei meccanismi è tutto marketing ovviamente il fatto di inserire degli ostri magari inviti me io lo faccio ovviamente lo pubblicizzo lo racconto e così via molte volte è fatto con cognizione di causa nel senso che appunto si mette a fare un piccolo ruolo un ruolo che è legato anche al personaggio che si sceglie di far doppiare molte volte sono scelte proprio strane che vanno a rovinare un po' dei film perché comunque poi non è tanto ovviamente non si pretende che un cantante che va a doppiare sia in grado di avere un certo livello è normale fa quel che può il problema è che poi si sente lo stacco con gli altri che comunque il doppiaggio di un'opera è come avere un'orchestra e in quel caso è come avere tutta un'orchestra che suona benissimo i fiati gli archi le percussioni eccetera e poi c'è un elemento due tre non so che cominciano a suonare un po' stonati si crea questa cosa e lo nota anche il pubblico molto spesso comincia a allenare l'orecchio e quindi poi appunto si rovinano alcune interpretazioni che fatte ovviamente dal professionista potrebbero risultare migliori quindi soprattutto quando fanno doppiare magari ecco il protagonista poi per carità se il personaggio è particolare ci sono dei modi per farlo bene invece a volte viene fatto solo forse lo vedo un po' sul cartone animato alcune cose di solito si fa soprattutto io ricordo quando insomma di incontro di co fabio volo io la cosa che gli invidio tanto è di essere la voce di kung fu panda perché dico tu hai fatto delle cose bellissime nella vita che spero di fare un giorno anche io ma la voce di kung fu panda però è lì anche lui c'è una voce particolare molto caratteristica è venuta anche fabrizio frizzi però fabrizio frizzi già per voodii cioè alcune cose ci sono che funzionano ma poi molte volte chiamano anche degli attori professionisti come zingaretti che ha fatto sia nemo ne so qualcosa sì sì infatti ha fatto il mio papà e ha fatto anche l'ultimo sì attenzione perché forse non tutti sanno che forse non sapete perché credo che la carriera sia partita lì non so se è stata la prima non proprio il primo ok adesso non voglio farlo però in realtà già da due anni doppiavo però ne avevo sette e attenzione attenzione e ero la voce di nemo quando ero piccolo Alex è stata la voce è stata la voce di nemo e tra l'altro la voce di nemo è quella cosa che non ti possono dire mi fai la voce di nemo perché la tua è cambiata per fortuna non posso più farla quanti anni avevi? sette fino a 13-14 anni me la chiedevano e provavo a riprodurla adesso proprio zero adesso zero quella è stata una bellissima esperienza ovviamente poi ci sono appunto attori professionisti di presa diretta che poi prestati al doppiaggio comunque fanno la loro figura perché sono attori il problema nasce più che altro quando si chiamano magari per ruoli importanti persone che non hanno mai recitato che non è colpa loro però si sente e c'è qualcosa che stona quindi molte volte potrebbero scegliere un po' meglio anche perché appunto oppure inserirli ma per dei ruoli piccoli come è capitato in altre situazioni è andato benissimo sì a quel punto si crea un gioco di ruoli di interesse anche un po' comune delle parti quindi insomma l'esperienza lì è stato figo perché ho visto un po' come funziona anche la sala di doppiaggio non c'ero mai entrato e di conseguenza ho visto insomma tutti i fogli con le varie battute a livello tecnico ringrazio ne approfitto spero che stia guardando questo video Roberto Gammino che è stato il direttore di doppiaggio della nostra esperienza quindi ha avuto a che fare con me con Flavio Tranquillo con anche i giocatori Cecilia Zandalasini Carlton Miles Fedez insomma ci sono state diverse ha avuto a che fare quindi con gente che non fa questo di mestiere quindi già quello è abbastanza difficile lui bravissimo gentilissimo squisito ma mi ha impressionato proprio quella cosa lì di switchare cioè io magari facevo la battuta e lui mi diceva mi dava le indicazioni quindi dilla così dilla cosà io ci provavo e poi quando lui voleva farmi l'esempio magari diceva dimmi così a quel punto switchava lui parla pure lui con l'accento foro esatto il vostro superpotere viene fuori quando decidete voi a quel punto lui inizia in qualche modo a darmi la battuta credo si dica così e e allora capisco anche un po' quale deve essere l'intonazione eccetera eccetera però notavo la difficoltà nell'andare sopra la lingua originale perché magari una frase in inglese è più lunga o più corta a seconda di come si dice rispetto all'italiano quindi magari io andavo troppo veloce e quello ancora stava parlando e dicevo no cazzo aspetta devo rifare magari andavo troppo lungo e c'era già la battuta dell'altro sì diciamo il sync è molto importante c'è un lavoro di adattamento che è fatto anche su misura per la battuta poi in sala poi ci si rende conto se una battuta è troppo corta troppo lunga si sistema al momento o devi essere tu a essere bravo a beccare tutto il ritmo giusto e quindi arrivare giusto dall'inizio alla fine oppure a volte si aggiungono e si tolgono parole tornando sempre ai social e il mondo del doppiaggio mi hanno detto degli altri colleghi adesso senza fare nomi eccetera che però ci sono stati anche dei casi in cui magari qualcuno in social se l'è fatto un po' scappare di mano nel senso che io chiaramente quando ho come dire accettato questa cosa come credo capita anche voi firmate fogli ormai è tutto no spoiler addirittura ci sono dei film so che voi doppiate quasi occhi chiusi quasi sul nero quasi sul nero come sono le regole adesso per quanto riguarda i film e questo tipo di spoiler sempre più ferre a parte che fino a qualche anno fa si poteva se tu vuole portare una persona magari a vedere lo studio di doppiaggio ad assistere a un turno anche dei ragazzi che magari volevano imparare quindi venivano ad assistere si poteva fare adesso è tutto blindato sempre più contro anche per il fatto della pirateria per gli spoiler per tante cose è tutto blindato quindi per entrare anche noi io ci sono degli studi che ho frequentato da quando appunto sono quasi neonato perché andavo in passeggio con mia madre ad accompagnare mio fratello e adesso se io non ho il turno lì quel giorno a quell'ora segnato devo lasciare il documento tutto per la sicurezza contro gli spoiler non mi fanno neanche entrare neanche se appunto sono studi che ho sempre frequentato è come una seconda casa perché non si può fare quindi e poi doppiamo molto spesso soprattutto i prodotti importantissimi film e di film marvel eccetera con delle su delle versioni del video oscurate con tanti banner sopra tanti per non farti vedere cosa sta succedendo sì per sporcare le immagini e far sì che anche se un hacker dovesse rubare il video oppure qualcuno fa un video così comunque non è il video che poi va al cinema ok e molte volte proprio ci troviamo a doppiare su delle cose sfocate in no way home sì cioè tu hai fatto comunque credo il film con più hype degli ultimi vent'anni dove tutti hanno fantasticato tutti hanno fatto le loro teorie tutti volevano sapere qualcosa quindi immagino da un anno prima a chiedermi cosa davvero sì è uscito il primo quando hanno detto che sarebbe uscito l'anno dopo poi è stato rimandato sì perché su questo poi c'erano mille teorie ci saranno gli altri spiderman ci sarai tu mille domande mille domande sul trailer eccetera io in realtà la cosa assurda è che noi questi film quasi sempre li doppiamo un mesetto un mesetto e mezzo prima quindi io prima di quel momento non sapevo veramente niente e la gente non ci credeva dicevo non so niente non so niente no non è vero non è vero non è vero mille domande poi ovviamente la cosa dura è stata soprattutto dopo quando ho iniziato a doppiarlo ho dovuto mantenere il segreto per un mesetto certo perché tu sapevi tutto a quel punto eh sì anche se ho scoperto tutto facendo il film cioè proprio non ti avevano spiegato non ti dico niente mi ha detto il direttore di doppiaggio Marco Guadagno bravissimo che dirige tutti questi film ho detto no io non ti dico niente su quello che succede vai fallo e quindi scena per scena scoprivo le cose quando ho visto la scena di Zia Mei cose del genere insomma tosta 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 tu la guardavi e ti fermavi perché non potevi fare la battuta stupito da quello che stava succedendo beh no ovviamente vediamo scena per scena quindi quando l'ho visto e poi dopo la rifò mi ha scesa quasi la lacrimuccia poi ovviamente eh ci credo ha anche aiutato per l'interpretazione però sì in quel caso io per fortuna Tom Holland lo vedevo sempre bene però alcune parti del video erano oscurate o sfocate per esempio tanto si può dire è uscito chi non l'ha visto stop il video vada poco avanti gli altri due Spider-Man sì come c'erano altri due Spider-Man sto scherzando ti immagini esagerate il sangue ma come erano totalmente oscurati e avevano solo la bocca a fuoco cioè scusami sfocati sì e la bocca cioè era non era sfocata quindi i doppiatori hanno dovuto doppiare delle bocche non solo la tua versione anche la versione che hanno doppiato loro sì sì era la stessa solo che Tom Holland si vedeva sempre ho capito però se c'erano loro perché non potevano sapere no perché non si doveva cioè si capiva comunque chiaro però non si doveva vedere come erano il costume la cosa anche Jamie Fox electro siccome era una versione particolare era totalmente oscurato anche lui sfocato e si era solo la bocca quindi la difficoltà per un doppiatore in quel caso poi è perché tu non è che doppi solo la bocca per andare a sync l'espressione ti aiuta tanto gli occhi molte volte è una cosa che si dice il sync si vede anche dagli occhi no quindi l'espressività insomma non è per niente facile doppiare in queste condizioni non c'è un sindacato dei doppiatori che può dire oh raga sei dei professionisti non è che mi devi coprire sempre tutte le volte le cose purtroppo no anche perché qualche volta qualcuno ha fatto uscire qualcosa i doppiatori di solito non lo fanno però qualche cosa è capitata in passato senza raccontare troppo perché sono cose un po' interne certo però capita e comunque poi essendo tutto digitale sai nei server basta che entra qualcuno e no no se li portano via quindi è proprio a prescindere insomma purtroppo bisogna essere abituati a lavorare così mi ricordo mi raccontarono il trono di spade l'ultima stagione mamma mia la mia ragazza Sara la bidia la voce di Aria Stark davvero siamo tutti collegati non voglio immaginare i momenti di intimità con le voci fammi la voce di Aria Stark questa cosa di Aria Spider-Man anche anagraficamente effettivamente poi ho scelto le vostre voci anche perché infatti il mio sogno è far incontrare qualche film i due attori però diciamo ecco lei mi raccontava che loro non avevano manco possibilità di vedere manco possibilità di vedere il copione intero avevano solo le loro scene tutto oscurato solo la faccia si vedeva una cosa tosta perché tu comunque se sei a Leggio sfogli un po' cosa che io faccio sempre infatti nel film io non vedevo vedevo tutto mano a mano ma ogni tanto sfogliavo le scene e andavo avanti ad esempio piccolo rovescio della medaglia su Space Jam 2 io facendo così me lo sono rovinato perché io ho doppiato ho visto solo le scene che ho doppiato io tra l'altro con delle immagini come dicevi tu un bianco e nero un po' sai con le scritte property of Disney una cosa del genere però sapevo vedevo cosa stava succedendo ed era solo la fine quindi oddio non è che mi sia rovinato una trama incredibile per carità perché è un film d'animazione divertente però il film e quelle emozioni di un film che volevo vedere da tanti anni me la sono tra virgolette rovinata se sei fan per te è anche un po' un po' disillude questo mondo sì ormai mi sono abituato all'idea e gli spoiler diciamo che tranne i rari casi non mi fanno troppo effetto nel senso che te lo guardi comunque poi il film i film li vedo comunque sì i film i film li vedo comunque con piacere pur sapendo come possono andare a finire cerco di godermi quello che c'è e diciamo che fa un po' parte del mestiere è normale chiaro io poi diciamo che sono sono fan di alcune cose però quando ci sto dentro alla cosa è come se la mia parte fan si si eclissasse un po' perché soprattutto ho paura a volte che possa subentrare l'emozione del fan e poi la performance non è all'altezza ne può risentire mi è capitato di essere molto magari contento di fare una cosa e con questo essere gasato molte volte non mi ha aiutato troppo ah vedi perché magari ti perdi delle cose cioè a me piace stare lì e sapere che io sto comunque facendo un servizio un lavoro e quindi sì la parte emotiva c'è tanto ma deve essere legata al personaggio all'andamento del personaggio non al pubblico cioè non devo essere il pubblico io tra l'altro tu l'hai incontrato Tom Holland vero? sì l'ho incontrato alla conferenza stampa di Spider-Man Homecoming nel 2017 ma lui sapeva ti hanno presentato come lui era il doppiatore e lui ha detto wow cool cose sue cose sue sì ero pietrificato non ho capito non ho capito niente ma è durato un minuto perché lui andava un po' di fretta anzi non usavo ancora abbastanza i social perché ovviamente non ero così no mi sono fatto solo un selfie ovviamente se lo incontrassi oggi farei video blog quella volta sto incontrando Tom Holland mille cose cioè a partire dalla settimana prima ma questo fa parte del gioco però prima ovviamente era tutta una cosa quindi è stato mi sono goduto il momento per carità però ha fatto questo selfie al volo lui insomma è stato comunque molto carino molto contento di conoscermi è rivenuto a Roma recentemente ho provato a vedere se si poteva organizzare un incontro ma non è stato possibile perché aveva un'agenda fittissima no ci credo ma risuccederà ho fatto il conto Totti Rovazzi ma sono sicuro che non è stato lui a scegliere no ma no ovviamente sono cose già organizzate di marketing come spesso però spero ricaviti insomma allora ti volevo dire una cosa Tom sta guardando questo video Tom mi segue un bot sui social e sta guardando questo video e ci incontriamo tutti e tre a bere una roba dai dai da qualche parte nel multiverso probabilmente una cosa bella che forse non tutti non tutti sanno è che ovviamente come dicevamo prima tu hai iniziato tuo fratello fa il tuo stesso mestiere quindi da piccolino ti sei ritrovato in sala di doppiaggio sì Alex è anche stato ma lo è tuttora perché se accendete la televisione o guardate questo film è ancora lui la voce di Nemo per l'appunto esattamente Nemo Nemo ovviamente sono nel primo film perché il secondo sono stati credo 15 anni quindi già non avevi più e non potevo più farlo infatti Nemo non è una voce che ti possono dire scusami fai come mi fai la voce di Nemo nel senso la posso provare a fare ma sarebbe una carica tu c'è una cosa ma tu ti ricordi quanti anni avevi quando hai fatto Nemo sette mi ricordo ho dei flash non mi ero benissimo mi ricordo alcune cose che ho fissato nella testa però non proprio tutta la lavorazione ma oltre a Spider-Man e oltre a Nemo quali sono gli altri personaggi che hai sono tanti a volte me ne scordo qualcuno comunque diciamo da piccolo quelli più famosi sono stati Coda Fratello Orso molto bello anche quello poi ho fatto una spilza di sequel dei classici Disney ho fatto Bambi 2 dove facevo Tamburino il coniglietto Red e Toby 2 dove facevo Red sono tutte edizioni che sono uscite credo solo in DVD sì ok poi ho fatto Tarzan 2 dove facevo Tarzan piccolo che erano in realtà dei prequel ovviamente essendo tu piccolo e giovane dovevi fare tutti i personaggi più piccoli ho fatto pure un altro 2 ora non mi ricordo comunque ah ecco poi il Ro di Winnie Pooh il cangurino lo ho dipiato per 6-7 anni quindi tutte cose molto carine da piccolo anche se mi fa ridere perché delle volte dico questi ah che bello poi magari esce fuori che ho fatto su Scary Movie 4 il bambino giapponese che diceva Nagasaki Okinawa Suzuki quello che faceva finta di non essere il fantasma parlava solo con dei brand ovviamente bellissimo e ero io e quando dico questa cosa la gente impazzisce fa troppo ridere insomma da piccolo ne ho fatti tanti poi crescendo tante altre cose Serie TV ero Rico di Anna Montana poi non so qual è il sogno di un doppiatore? difficile perché diciamo che quando arrivi per l'età che ho sono arrivato comunque a doppiare delle cose molto importanti quindi l'unico sogno è continuare così e riuscire a seguire magari questi attori a doppiare gli attori i grossi attori del futuro mi piacerebbe doppiare non ci sarà mai un uguale però un Will Smith del futuro senza schiaffi senza punti non ci sarà più Will Smith perché ormai l'hanno tagliato fuori da qualsiasi cosa però insomma è un attore che mi è sempre piaciuto tanto magari un attore del genere che può fare un po' di tutto quindi il sogno è continuare così e riuscire a mantenere sempre questo livello però chiaramente dopo aver doppiato Spider-Man comunque è una grande soddisfazione Spider-Man e Spider-Man tra l'altro insomma una cosa che mi fa ogni tanto anche un po' sorridere tu ovviamente fai il doppiatore di uno dei personaggi più importanti di Hollywood in questo momento di più di uno abbiamo citato i due attori su tutti e comunque però hai anche il tuo sogno parallelo che è il mondo della musica e la possibilità bella di oggi è che puoi anche provare a raccontarlo sì 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 infatti sono molto contento di questa cosa perché comunque piano piano sto cercando di convertire un po' il pubblico anche ad ascoltare un doppiatore che canta non è sempre facile perché chiaramente l'etichetta un po' c'è ma soprattutto la tua è un'etichetta importante non è che dici faccio un doppiatore mi capita molto spesso che mi commenti ma che bello Spider-Man che canta in realtà lì mi fa ridere però da una parte dico cavolo però ho paura che distolga un pochino quindi non è semplicissimo poi vabbè diciamo questa cosa della musica ce l'ho da sempre mio papà è un musicista ha scritto canzoni per tanti artisti e quindi canto da sempre ed è diventata anche un'ambizione non che nel doppiaggio non abbia ambizione però appunto mentre il doppiaggio vorrei consolidarmi però comunque e poi comunque tu lo fai da tanti anni esatto perché non è che è iniziato due anni fa è il mestiere che fai tutti i giorni la musica è un po' l'evasione da questo mondo è un'ambizione diversa mi dovrebbe magari un giorno cantare capito su palchi importanti avere un pubblico che canta le tue canzoni ma poi oggi i social o comunque ti permettono in generale di poter avere più dimensioni e in realtà questo momento storico pian piano il pubblico è anche pronto a capire che una persona non è solo una cosa ma fa più cose quindi io ti auguro veramente di spaccare anche da quel punto di vista secondo me il pubblico ormai che sia anche affezionato a te ti seguirà in questa in questa avventura un'ultima cosa che sono curioso ne approfitto perché insomma essendo diciamo quasi coetane comunque non mi è mai capitato di parlare insomma ci sono tanti altri doppiatori anche che ho conosciuto però una cosa che mi sono sempre chiesto che è una cosa che poi si chiedono anche le persone il mondo del doppiaggio è molto chiuso e spesso insomma viene detto viene associata questa cosa alle famiglie insomma capita di vedere se tu guardi e vai alla fine di un film quando vai a vedere i credit se avete voglia di fermarvi molte volte troverete dei nomi simili anche di personaggi anche molto conosciuti che magari voi ne conoscete uno ma nella stessa famiglia ce ne sono altri come mai succede questa cosa allora diciamo che è un mestiere che si tramanda molto esatto è tipo come tanti mestieri è tipo il falegname però nel doppiaggio esattamente ma anche i sportivi molte volte i calciatori quanti figli di calciatori che poi seguono le orme dei genitori e magari arrivano anche a livelli grossi è un po' così si tramanda perché è un mestiere molto specifico e l'iter è questo quando capita che serve un bambino certo per fare un bambino quindi un bambino di 5-6 anni il direttore di doppiaggio cosa fa? non è che prende un bambino così a caso molte volte può dire ok chiamiamo il figlio di quel doppiatore perché molte volte magari il figlio di un doppiatore già sa cos'è il doppiaggio già sa che cosa vuol dire stare in una sala perché magari c'è andato magari ha un po' più a suo agio magari ha anche nel sangue qualcosa ci sono dei figli doppiatori che hanno ereditato comunque delle doti che possono essere una voce particolare magari già respirano anche sentono parlare in un certo modo quindi sono più puliti nella dizione quindi è un po' automatico e succeda così e poi non sempre poi i figli di o i parenti di continuano certo certo c'è chi continua a farlo perché è portato perché diciamo che alla fine la meritocrazia vince comunque scarsi di doppiatori non ne ho mai visti comunque poi molte volte si può essere diciamo a livello alto però se non sei bravo certi ruoli non li fai è difficile quindi comunque poi è abbastanza meritocratico anche perché poi hai spesso un giudizio da un'altra parte da un altro stato cioè non è sempre l'ultima parola facciamo tanti provini per i personaggi non sempre si fanno proprio provini su parte magari prendono dei sample e cercano di sentire se la voce è adatta al personaggio però molte volte facciamo dei provini su parte relegati a quei 4-5 professionisti che hanno quell'età vocale certo e vengono scelti dall'America da fuori io Spider-Man mi hanno scelto dall'America è andato i provini sono andati mi hanno scelto soprattutto in base al diciamo il tono di voce il timbro il mood era molto simile a quello di Tom non cambiamo una voce simile però la tonalità non stava male ecco una cosa del doppiaggio italiano è che spesso è così cioè la voce è la voce di quel corpo quindi in qualche modo delle volte succede anche perché la senti la voce di una persona corpulenta è diversa dalla voce di una persona mingherlina ma c'è un lavoro dietro grosso io sono stato fortunato non ho l'unico parente che ho è mio fratello appunto però è venuto tutto molto naturale io mi trovavo sempre nelle sali di doppiaggio con lui però scusami no no praticamente in realtà per imitare mio fratello chiedevo a tutti di farmi provare perché lui poi doppiava spesso dei cartoni quindi mi mettevo lì guardavo voglio farlo anche io voglio farlo anche io io volevo fare tutto quello che faceva mio fratello infatti così ho fatto mio fratello poi anche lui è partito dalla musica storia simpatica che ti racconto al volo diciamo appunto abbiamo due cognomi diversi mio fratello è Gabriele Patriarca abbiamo due papà diversi io sono nato grazie a questo incontro particolare perché mio fratello da piccolo a cinque anni andò allo zecchino d'oro e vinse con la canzone il coccodrillo come fa sì e praticamente insieme a un altro bambino cioè quella canzone il coccodrillo come fa è tuo fratello nel ritornello è mio fratello ah poi un altro bambino faceva la storia clamoroso clamoroso ricchi non ha parole per questa scoperta e pensa che se non ci fosse stato il coccodrillo come fa io non esisterei non sarei destinato perché lì mio papà era il selezionatore per il Lazio dello zecchino d'oro ok e selezionò mio fratello è successo che poi appunto lui vinse mio fratello si era trovato molto bene con mio papà perché poi dopo le selezioni l'ha dovuto preparare per andare alle selezioni finali e continuò a prendere le lezioni di canto da mio padre perché si appassionò al canto gli piaceva e mio padre e mia madre si sono conosciuti in questo modo e sono nato io ma penso già comunque siete dei predestinati lui poi da quello ha cominciato a fare un po' di tv perché era un bambino molto spigliato portato per lo spettacolo un po' di recitazione in qualche fiction proprio in presa diretta ha dovuto ridoppiare se stesso come capita spesso nella presa diretta molti non lo sanno ma molte scene vengono ridoppiate cioè gli stessi attori vanno in sala di doppiaggio a ridoppiarsi perché ci sono problemi di audio ok vanno aggiunte le battute fuori campo delle integrazioni si chiamano si 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 e in tutto questo impercettibili devo dire si 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 impercettibili infatti lui ha dovuto doppiare tante puntate di questa fiction che fece per la RAI e hanno visto che era portato hanno cominciato a chiamarlo per fare altri ruoli di opere straniere e io ero lì in passeggina tra l'altro altra cosa se non mi ricordo male tu facevi anche le scene con Nino Frassica cercate Alex su youtube credo ci sia lì un video di Tacon Frassica il sindaco di Scasazza tu eri il sindaco di Scasazza a Sanremo Sanremo a 2003 ok tutto chiaro è stato lo stesso anno di Nemo penso io ho fatto Nemo e Sanremo Annata d'oro chissà quante tipelle a sette anni con tutto questo curriculum vedi no comunque si ho fatto tanta tv da bambino con Nino Frassica tantissimo mi ha coinvolto genio assoluto abbiamo presentato lo zecchino d'oro abbiamo fatto Sanremo abbiamo fatto tante puntate domenica in i migliori anni con Carlo Conti insomma tantissime cose e ho anche recitato molto spesso quindi insomma una bella storia e adesso vengono fuori anche un po' grazie ai social perché stai raccontando tutte queste cose e ti ringrazio Anzi per essere passato di qui a raccontarla grazie a te molto divertente ho in bocca al lupo con tutto spero di rivenire presto di riniti a trovare e niente grazie salutami Spiderman ciao a tutti bella Alex ciao ciao a tutti grazie